Crisi climatica e transizione ecologica sono temi di vitale importanza nella creazione di un futuro sostenibile e ora più che mai è necessario che ognuno compia la propria parte. Ecco perché il ciclo dei rifiuti è la nostra materia, l'economia circolare la nostra missione, natural attitude il nostro metodo. Con oltre 40 anni di esperienza Cesaro Mac Import investe sempre più impegno nello sviluppo di tecnologie all'avanguardia per il recupero dei rifiuti. Ridare uno scopo allo scarto è la sfida che affrontiamo con competenza e professionalità. Collaboriamo ogni giorno per ricercare e progettare le soluzioni più efficienti, mirando sempre alla massima qualità e alla piena soddisfazione dei nostri clienti. La fiducia è un valore che coltiviamo con la cura e la serietà offerta ai nostri partner. L'ascolto e il coinvolgimento in ogni fase del processo ci hanno permesso di stabilire collaborazioni durature. Negli anni abbiamo stretto partnerships consolidate con grandi aziende internazionali del settore, dalla fornitura della singola macchina a soluzioni che prevedono l'installazione di impianti complessi. Dalla realizzazione del primo impianto nel 1998 abbiamo continuato a evolverci nello sviluppo di soluzioni avanzate per ottimizzare il recupero dei rifiuti e di tecnologie per la produzione di energie rinnovabili. Cesaro Mac Import è partner affidabile. Il servizio di assistenza e il servizio ricambi sono parte integrante del processo naturale di eccellenza. Nella fase post vendita offriamo preparazione e serietà per garantire ai nostri clienti di poter contare su interventi rapidi ed efficaci. Oggi l'azienda è proiettata verso un futuro sostenibile grazie alla continua ricerca di soluzioni tecnologiche intelligenti e all'avanguardia. Natural Attitude è la somma dei nostri valori ed è ciò che ci permetterà di consegnare un mondo migliore alle generazioni future.